All'interno della cooperativa La Meridiana a Monza si sono suggellati 70 anni dell'attività della bulloneria Fontana. È una mostra che abbiamo voluto fare per il discorso dei festeggiamenti dei nostri 70 anni, 70 anni che partono dalla nostra sede principale che è la Fontana Luigi di Vedugio e oltre a fare qualcosa per noi, per noi stessi, abbiamo chiamato il nostro amico Maurizio Galimberti, artista di fama internazionale, e abbiamo visto con loro se poteva, secondo i suoi occhi, fare alcuni scatti fotografici per la nostra azienda. Da lì effettivamente sono venute fuori delle opere d'arte che abbiamo racchiuso in un libro. In queste fotografie riguardo ai 70 anni della Fontana Gruppo rivediamo sicuramente la storia della Fontana Gruppo, il loro mondo, però come diceva prima Fabrizio di Fontana Gruppo potrebbe essere una fotografia che si adatta un po' a tutti i mondi industriali, perché è una fotografia buona, una fotografia che nasce molto dalla storia dell'arte, quindi tra il futurismo di Boccioli, il nudo che scende le scale di Marcel Duchamp, la pop-art di Andy Warhol e anche certe visioni di Schifano, di Mario Schifano, quindi è una fotografia intellettualmente onesta che nasce da una grande contaminazione con la storia dell'arte e che vuole raccontare un mondo incredibile come è quello del Fontana Gruppo. Sono qui a raccogliere un messaggio, il messaggio di questa importante azienda storica, il Gruppo Fontana, un messaggio che vuole far arrivare attraverso l'arte, attraverso la fotografia, quindi attraverso la più alta forma di comunicazione, raccogliere questo messaggio e perché no, portarlo all'interno delle istituzioni. I valori di questa famiglia che investe anche molto sul territorio, anche in questo luogo, la meridiana, un luogo di sofferenza e quindi anche di aiuto. Ecco, sono qui a raccogliere questo messaggio per portarlo all'interno delle istituzioni.